Cosa conta questo pareggio? Tanto, tanto perché ci dà morale e nonostante il mister abbia messo in campo anche qualche giocatore che non aveva giocato tanto ultimamente, questa è una prova che il gruppo è forte, siamo tutti compatti e infatti è una partita da grande gruppo. Adesso ha quello di morale in quanto vi può caricare in vista del prossimo del campionato? Sicuramente tanto, però dobbiamo essere consapevoli che venerdì ci aspetta una battaglia non dobbiamo pensare di essere diventati bravi, ma abbiamo dimostrato sul campo però non ne ho dubbi perché l'atteggiamento è sempre stato diverso. Raccontaci un attimo l'episodio del gol annullato, perché c'è stato un boato quasi come un gol. Com'è l'avete vissuto voi? Come tifosi, l'avevamo giuntato anche noi. In quel caso lì ci è andata bene, però abbiamo fatto sconare una grandissima partita e fortunatamente raffigio. La gara di Empoli, come l'hai preparato? Ci sono pochi giorni che si torna in campo subito a venerdì e poi è una lunga sosta. Obiettivo di rimanere attaccati alla zona a salvezza più possibile? Quello assolutamente. Siamo lì, perciò abbiamo una partita fondamentale e vogliamo vincere. Perché è uno sconto diretto e ne abbiamo assolutamente bisogno. La prepariamo in poco tempo, ma con il mister anche oggi ha da molti due giorni. Grazie. Grazie. Grazie.